Sono quindi pronto a farmi da parte e quindi do le dimissioni per favorire il percorso della Commissione Barroso, alla quale auguro pieno successo, perché l'Europa oggi ha bisogno di una forte Commissione che lavori insieme con il Parlamento e con i governi per cogliere tutte le opportunità della Costituzione che è stata firmata ieri in Campidone. Per Lusconi e tutto il governo, per la fiducia... No, I am adding something in English. This press conference might be in one sense the commencement of a new European movement toward the reaffirmation of the Universal Declaration of Human Rights and the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, especially in what regards freedom of conscience, religion and expression. I don't feel as an adversary of human rights. I think that I am championing, have been championing and will be championing human rights and the right expression of human rights in the European Union. Human rights that include the rights for women to become mothers and the right for men and to form families and to grow up children. of women as if they prefer the language of. Titanfalli Minervi astronomicali Titanfalli Titanfalli